Musica Buonasera carissimi telespettatori alla nostra trasmissione tra le righe. Ho qui il piacere di presentarvi un libro che è Stefano Conti, l'equazione è perfetta, un bellissimo romanzino, diciamo di avventura, di un giallo pieno di suspense, pieno di personaggi, ma la sorpresa qual è? Che qui con me ho lo scrittore in persona. Abbiamo qui Stefano Conti che ringrazio di essere con noi. Buonasera, grazie. Stefano è un insegnante all'Università di Siena, ha lavorato, ha scritto saggi, ha scritto tantissimi romanzi, lavora con le scuole dove va a parlare con gli studenti con grandissimo successo, devo dire, e ho l'onore qui di intervistarlo proprio su questo suo ultimo lavoro che è veramente molto interessante, piacevole e scorrevole. Dove siamo? Faccio una breve introduzione e poi sentiamo Stefano dove siamo. Siamo a Torino, in una scuola, in un liceo prestigioso, e in questo liceo gli insegnanti decidono di portare i ragazzi in gita e in gita andranno in Liguria a Fruttuoso, a San Fruttuoso, un posto meraviglioso. E da qui le avventure saranno numerosissime. Dunque, allora Stefano carissimo, io la prima domanda che ti faccio è perché sei passato dal saggio storico che tu hai scritto per tanti anni alla produzione di romanzi avventurosi, gialli. Sì, la storia è la mia passione, la mia vita è il mio lavoro. Volevo trovare il modo di appassionare il resto del mondo, anche un pubblico di non addetti al settore, per cui dopo aver scritto per quasi vent'anni, saggio a metà tra la storia, l'archeologia e la filosofia del mondo antico. Ho pubblicato, ormai sei anni fa, questo, che è il mio primo romanzo Io sono l'imperatore, che è un giallo ambientato ai nostri giorni, dove c'entra continuamente la storia. L'idea era far avvicinare appunto un pubblico di appassionati, di trille, eccetera, anche a qualcosa di storico reale. Sullo stesso filone è anche il secondo mio romanzo, Seguimi se vuoi, ambientato ugualmente ai nostri giorni, ma i protagonisti si trovano invischiati tra castelli medievali, abbazie, sitercheologici, opere d'arte. E ora appunto quello di cui stiamo parlando, l'equazione perfetta, ugualmente è un giallo in cui si mescolano segreti odiemi con antichi misteri. Infatti, e il giallo, lo ricordiamo, anche il romanzo di formazione volendo, è interessantissimo e si svolge a Torino. A Torino è una città importante, c'è il Museo Egizio, infatti nell'equazione perfetta c'è la realtà che si mescola un po' con la magia. Ma Stefano, perché Torino? È una città importante? Torino è una città molto affascinante, molto interessante dal punto di vista storico, artistico, ma anche la città magica per eccellenza, al vertice mondiale della magia bianca e anche della magia nera. E mi piaceva far fare ai protagonisti, questo gruppo di ragazzi e quindi al lettore, un percorso in luoghi magici, misteriosi, esoterici di questa città. E molti fatti leggendolo viene la curiosità di andare a vedere questi luoghi più particolari. Mi sembrava lo scenario più adatto per un giallo, una città così particolare. Sì, proprio una città bella, importante. Allora, guardando questo romanzo, i capitoli. I capitoli ricordano, sono un colore, caratterizzati da un colore, anche dei colori un po' particolari, non i soliti, diciamo così, colori, insomma, colori di una sfumatura particolare. Ci vuoi spiegare perché? Ho voluto scegliere dei colori poco noti, che secondo me dovevano caratterizzare un po' quello che avviene nel capitolo. Adesso è un colore proprio particolare alla vicenda. Ed è un qualcosa, secondo me, che corrisponde bene al romanzo. Il romanzo, come accennavi tu prima, è un mix di varie cose, perché c'è il giallo, c'è l'avventura, c'è anche la storia d'amore, c'è dietro un background storico importante. E quindi, appunto, come tanti colori in una tavolozza, i vari capitoli affrontano queste varie tematiche. L'idea è fare una lettura per tutti, divertente e coinvolgente, ed è anche degli spunti interessanti. E anche quella dei colori poteva essere un modo per incuriosire, come anche dalla copertina si vede, insomma, non è la classica copertina magari di un giallo, ma proprio perché si voleva dare l'idea di questo mix di varie cose, quindi una lettura scorrevole, piacevole per tutti. Benissimo. L'ultimissima domanda, una mia curiosità, tu vai nelle scuole e hai tante attività. Progetti per il futuro? Che cosa ci possiamo aspettare? Ora che è uscito il mio nuovo romanzo, sto organizzando una specie di incontro spettacolo in cui girerò non solo le scuole, ma anche nelle piazze, nei teatri, invitato da comuni e biblioteche, con uno spettacolo in cui, partendo dal romanzo, si fa fare un viaggio allo spettatore nello spazio e nel tempo con immagini, video, degli attori teatrali che recitano dei brani del mio romanzo. Ma complimenti, una bellissima idea. Grazie a Stefano e ricordiamo ancora Stefano Conti, l'equazione perfetta. A presto, a tra le righe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.